I pazienti dovrebbero stare non più di 44 ore, invece è diventata una vera e propria stanteria. Sì, questa in realtà è un'osservazione breve, dove per legge il paziente può stare massimo meno di due giorni. Sono pazienti già studiati, per i quali emerge la necessità di ricovero, ma non c'è posto letto nelle unità di degenza. L'area dell'osservazione breve intensiva è ciò che rende meglio l'idea di come le carenze della sanità scarichino qui tutto il loro peso. Siamo al pronto soccorso del Fazzi di Lecce, la vera trincea di tutto il sistema e anche la messa a terra delle sue criticità, con una media di 250 accessi al giorno da gestire. E per capirne meglio funzionamento, problemi e potenzialità che in mattinata i due consiglieri regionali Paolo Pagliaro e Pierluigi Lopalco, quest'ultimo anche ex assessore regionale a Ramo, hanno effettuato un sopralluogo guidati dal dottor Silvano Fracella, direttore dell'unità operativa. Non stiamo parlando di esigenze di Fracella della caposala, stiamo parlando di pazienti, di garantire la sicurezza dei pazienti. Noi abbiamo deciso di fare questa ispezione, questa sopralluogo, questo soccorso non a caso. La buona notizia è che entro la prossima settimana sarà completato il trasferimento al DEA anche per i codici gialli e rossi. Lì sono già trattati invece i codici bianchi e verdi. Al Fazzi resterà soltanto la cosiddetta area grigia, cioè quella destinata ai pazienti positivi al Covid o sospettati di esserlo. La cattiva notizia è che questi spazi nuovi e adeguati, attesi da tanto tempo, non risolveranno buona parte delle criticità esistenti. Per gestire dei percorsi più ampi serve più personale, perché come dire, adesso abbiamo quattro Ferrari ma in realtà c'hai un pilota. L'elenco è lungo, ma i problemi del pronto soccorso sono essenzialmente di tre tipi. Il primo è che serve personale. La dotazione organica prevede 33 medici, ce ne sono soltanto 21. Nemmeno con i concorsi si riesce a coprire il fabbisogno, perché in pochi ormai vogliono lavorare su questa frontiera. Avere più personale, almeno sei camici bianchi in più, consentirebbe anche di aprire un secondo ambulatorio per i codici bianchi e verdi, per cui si registrano le attese più lunghe, anche di 6-7 ore. Noi abbiamo preso appunti, perché oggi fondamentalmente c'è la necessità di capire a fondo quali sono le motivazioni e i problemi che portano il pronto soccorso dell'ospedale di Lecce a essere in testa delle criticità del sistema sanitario regionale. E quindi abbiamo verificato che la questione è molto complessa. E la cosa che sinceramente ci fa un po' pensare è che nonostante questa bellissima struttura molto nuova, il pronto soccorso potrebbe continuare ad avere momenti di alta criticità. Il secondo problema riguarda la carenza di posti letto nei reparti. Se non si liberano lì, i pazienti che arrivano al pronto soccorso sono costretti a rimanerci per giorni. Qui, ad esempio, quelli positivi al Covid restano in media una settimana, perché non ci sono posti malattie infettive in pneumologia. L'altro nodo, invece, attiene alle carenze della sanità territoriale, una tra tutte l'assenza di ospedali di comunità che prendono in curi pazienti geriatrici o i casi meno gravi. Saltando quel filtro si provoca l'intasamento. Il Covid ha slatentizzato tanti problemi, problemi che erano cronici, con il Covid si sono ancora di più accentuati. Noi oggettivamente speriamo che quello che sarà fatto con i fondi del Piano Nazionale di Resilienza, il PNRR, vadano in questa direzione. Ecco, lì dobbiamo essere vigili. Dobbiamo anche un po' accelerare quella che è la programmazione, perché senza questa programmazione questi problemi, che sono problemi atavici dei pronto soccorsi, non saranno risolti. Durante il sopralluogo i due consiglieri hanno ascoltato medici e pazienti. Questa mattina sopralluogo bipartisan. Come si porterà avanti questa battaglia? Io adesso con il collega Lopalco penso che, avendo preso appunti, avendo le idee molto chiare, proporremo un'audizione per consentire di poter far partecipare i protagonisti di queste criticità e magari adesso speriamo che con il nuovo assessore ci possa essere finalmente una decisione che vada nella direzione di definire una volta per tutte questa questione. Sulla sanità concentreremo molto le nostre attenzioni. Sulla sanità concentreremo molto le nostre attenzioni.